Il confronto sul futuro delle biblioteche storiche lunedì mattina nello spazio istituzionale del Padiglione 1 ha concluso positivamente l'impegno di Città Metropolitana di Torino al Salone Internazionale del Libro. La consigliera delegata Barbara Zracon, Carla Gatti, direttore dell'area comunicazione, Eugenio Pintore, dirigente dell'assessorato alla cultura della regione Piemonte e la responsabile della biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Torino Elena Borgi hanno offerto spunti di riflessione sulla valorizzazione e la promozione di un patrimonio culturale storico prezioso e troppo spesso sconosciuto sia al grande pubblico che al mondo delle scuole. Al Salone del Libro oggi parliamo delle biblioteche storiche e la città metropolitana intende valorizzare e promuovere la sua? Certo, è un gioiello del nostro territorio e è assolutamente importante che soprattutto i giovani conoscano e apprezzino i libri, i contenuti ma anche proprio il valore storico di quella biblioteca e quindi troveremo le modalità per poter promuovere verso i giovani questa biblioteca. Accanto all'impegno di tutela dei beni letterari antichi, hanno concordato i relatori, servirà sempre di più un'azione di stimolo e coinvolgimento degli studenti per far conoscere ed apprezzare un modo di studiare e di approfondire le conoscenze assai lontano dalla semplificazione che oggi si trova in rete. Attivazioni di tirocini e progetti di alternanza scuola-lavoro saranno alla base del lavoro che le biblioteche storiche della città metropolitana di Torino e dell'Accademia delle Scienze svilupperanno insieme nel prossimo futuro. La buona pratica del Bibliotour avviata su impulso della Regione Piemonte ha aperto la strada a progetti di sviluppo anche turistico e proseguirà come conferma Eugenio Pintore. La Regione Piemonte già dallo scorso anno ha ideato il Bibliotour per promuovere e valorizzare i gioielli, le biblioteche storiche di Torino e dell'intero Piemonte. È un esperimento da ripetere? Direi di sì, è un'iniziativa intanto innovativa che ha antecedenti non così diffusi in tutta la nazione. Riteniamo che sia da perseguire, anche da estendere oltre il territorio della città su cui ci siamo concentrati in questa prima fase, da estendere anche ad altre biblioteche diffuse nella Regione, da Vercelli, Alessandria, Novara, insomma tutte le province.